come la narcisista zoccola ti seduce il marito o compagno allora la narcisista zoccola che caratteristiche ha la caratteristica di essere sessualmente predatrice e quindi si aggancia diciamo a uomini sposati aggancia uomini sposati ammiccando occheggiando utilizzando diciamo molto lo sguardo facendo lo sguardo da troia fondamentalmente per diciamo far sì che gli uomini in qualche modo si sentano inizialmente lusingati si sentano ringaluzziti e poi diciamo arriva molto rapidamente alla sessualità magari anche diciamo in posti anfratti in palestra in auto insomma in luoghi così dove capita deve niente diciamo così e quindi ha subito appeal ovviamente non è una donna raffinata è una donna grezza volgare della peggior specie con rapporti promiscui tanti rapporti con diciamo alle spalle spesso famiglie distrutte con brutte separazioni con figli che non sa educare non fa non sa far crescere insomma una situazione negativa nefasta nella sua vita e quindi ha un'invidia costante verso le altre donne e cerca in qualche modo di distruggere le famiglie questo è il suo vero obiettivo a differenza della gatta morta che vuole sedurre l'uomo e portarlo via la narcisista zoccola che poi si differenziano tra narcisista zoccola e narcisista santa vuole fondamentalmente distruggere la famiglia e rapporti promiscui anche con uomini liberi fondamentalmente che cerca di distruggere comunque anche questi rapporti cerca di rovinare anche magari se questi hanno delle amicizie delle cose cerca insomma di danneggiare questo è il suo obiettivo inconscio fondamentale perché la rabbia che coltiva dentro è una rabbia che la spinge compulsivamente a fare delle azioni una caratteristica di questa donna narcisista zoccola e che cerca in qualche modo in alcuni casi di portarvi a soldi non a tutti magari non a quello sposato ma a quelli che si agganciano monetariamente cerca di fottergli soldi e la sua vita si prosegue in questo modo quindi attenzione che questa è la modalità e se il tuo marito il tuo compagno in cappa in uno di queste probabilmente ti tradirà in qualche modo ma di fatto la colpa è al 99 per cento della narcisista zoccola seguimi su instagram su tik tok e su youtube e su tutti i miei canali youtube ovviamente massimo tramasco crescita personale felicità benessere molto stima e noi siamo al canale esoterismo e spiritualità con massimo